La co-creazione è un'energia bellissima ed estremamente pratica. Un'onda che possiamo cavalcare per realizzare la nostra vita. Una dinamica in movimento perpetuo che genera continue manifestazioni. Il concetto basilare della co-creazione si fonda sul fatto che ciascuno di noi non è tutto qui, perché ciò che in genere pensiamo di essere e vediamo di noi, è solo una parte del nostro vero e totale essere, che in realtà è multidimensionale. Quando ci incarniamo, il corpo che andiamo ad abitare non è predisposto a contenere tutta la nostra totalità multidimensionale. Per tanto, una parte di questa entità quantica che dà origine alla nostra personalità sulla Terra, la nostra identità storica, conosciuta come spirito o se superiore, resta sull'altro lato del velo, conservando e mantenendo sempre a nostra disposizione tutta l'esperienza, la saggezza e la conoscenza di tutte le nostre vite precedenti, presenti e future. Per inciso, nello stato quantico non esiste il tempo. Mentre siamo sulla Terra nella terza dimensione, la dualità in cui siamo immersi ci impedisce di ricordare e riconoscere queste parti di noi, perché ci identifichiamo automaticamente e piuttosto esclusivamente con il nome e la storia che stiamo vivendo in questo nostro corpo attuale, che vediamo con gli occhi fisici. Però noi non siamo limitati a quello che vediamo allo specchio. La co-creazione è vivere sapendo di essere sempre uniti e accompagnati da queste altre nostre dimensioni di noi, che come detto, restano invisibili non solo agli occhi ma anche alla nostra percezione cosciente, e viene attivata dal nostro intento di farla entrare nella nostra vita materiale e quotidiana. La co-creazione, quindi, si attiva quando esprimiamo una specifica e consapevole richiesta di collaborazione a queste parti di noi che, diversamente, non entrano nel merito delle nostre scelte, quella libera scelta, che possiede l'essere umano incarnato. Il nostro entourage, o spirito, sa meglio di noi il perché della nostra incarnazione. Un altro dei concetti chiave collegati alla co-creazione è la richiesta. Caro spirito, dimmi ciò che devo sapere, conoscere. Esprimere questa richiesta dimostra che riconosciamo la presenza dello spirito, che possiamo fare meglio sotto la sua guida, e che anche la realtà che ci circonda ha una dimensione invisibile, per cui ci sono scopi o movimenti di cui non siamo consapevoli, ma se riuscissimo a coglierli e utilizzarli, possono contribuire alla nostra realizzazione. In questo contesto, quando noi esprimiamo questa richiesta con il termine sapere, intellettualmente, e conoscere, fare esperienza, manifestiamo la volontà non solo di sapere o avere informazioni, ma anche di conoscere, cioè vivere, e sperimentare. Questo è un punto delicato, perché il nostro sé superiore multidimensionale, ha una visione della sua, nostra vita, in funzione dell'esperienza dell'anima, quindi del suo benessere o sua realizzazione, e non è condizionato dai miti di successo, denaro e fama, che governano una società improntata al consumo e alla soddisfazione egoistica. Pertanto, quando si fa questa richiesta bisognerebbe essere consapevoli che la risposta potrebbe anche non piacerci, o non essere quella che ci aspettavamo, e non stupirci se invece di ricevere subito pace e serenità, arrivano situazioni che ci impegneranno a conquistare la nostra pace e serenità. La sincronicità, è uno degli elementi che comincia a presentarsi dal momento in cui chiediamo di creare in collaborazione con le nostre parti multidimensionali. La sincronicità è proprio la manifestazione del loro intervento. Si alza una brezza così leggera da non essere notata, ma che silenziosamente ci porta davanti le cose che dobbiamo affrontare, o le cose che ci servono per una realizzazione, incontriamo persone nuove che aprono porte e allargano orizzonti di comprensione, succede che cose difficili diventino più facili. Nell'ambito della sincronicità, c'è la situazione vincente, quella condizione in cui le parti in causa invece di contrapporsi trovano accordo e soddisfazione reciproca. Questo è dato perché le parti multidimensionali di noi dialogano anche con le parti multidimensionali dell'altro, perché anche il supposto nemico, o la persona fastidiosa o problematica, ha una sua multidimensionalità e un suo scopo, non solo per essere su questa terra, ma anche per la nostra interazione con lei. Nella metafora dell'angelo del parcheggio, viene spiegato come funziona questa specifica co-creazione vincente, nel trovare uno spazio libero per l'auto in un centro commerciale di sabato pomeriggio. Si tratta di una danza sincronizzata fuori dal tempo e dallo spazio, ovvero ciò che l'angelo, o per meglio dire, la nostra parte multidimensionale fa, è allineare la danza tra la persona che sta uscendo dal negozio perché ha concluso i suoi acquisti, e la persona che sta cercando parcheggio. Nella sincronicità intervengono sia le parti multidimensionali di noi, come anche le parti multidimensionali degli altri, perché nello stato quantico non c'è né tempo né spazio. Ecco, quindi, che la tempistica della nostra co-creazione considera anche i tempi della co-creazione degli altri. Pur essendo in una dimensione vincente, dove tutte le componenti in causa trovano naturalmente armonia, sul piano terreno i tempi non sono uguali per tutti, così, se a livello quantico la realizzazione è istantanea, sul piano materiale, ha dei tempi di manifestazione diversi. Bisogna quindi rispettare l'opera dello spirito confidando nel risultato, senza dare regole, o porre limiti allo spirito. Necessita, quindi, di fare la nostra richiesta, vedere il risultato finale, e non suggerire come deve essere fatto, o avere aspettative. Spesso ci lamentiamo per un qualche contrattempo che non ci ha permesso di arrivare per tempo a fare quel che desideravamo fare. Ebbene, in questi casi necessita considerare che, a, forse non era opportuno che lo facessimo, b, talvolta il contrattempo ci blocca in una situazione solo per permettere che altri elementi della nostra esperienza arrivino a maturazione, e la rendano, pertanto, più completa, c, è in atto un disegno diverso. Nella co-creazione e nella sincronicità, non c'è solo quello che vediamo, ma anche quello che non vediamo, e che forse non vedremo mai, come per esempio pericoli scampati, o delusioni evitate. La cronaca è piena di persone che hanno mancato quella che pareva un'occasione imperdibile, per poi felicitarsi di aver trovato di meglio nella provida sventura. La cronaca è piena di persone che hanno un'occasione.